Buon pallone filtrante, occasione d'oro! Si porterà più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spriraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri per fare la prima mossa.